Dal grano al pane, il prezzo aumenta di 13 volte per effetto delle speculazioni e delle importazioni selvagge di prodotto dall'estero, con pagnotte e panini spacciati come italiani all'insaputa dei consumatori. A denunciarlo col diretti Puglia, quando il grano tenero non è stato quotato ad alta mura e a foggio, ma si registrano tensioni a ribasso anche per il grano duro per fare pane e pasta. Un chilo di grano tenero in Puglia è venduto a circa 32 centesimi, mentre un chilo di pane costa in media 4 euro al chilo. Peraltro i prezzi al consumo non sono mai calati negli ultimi anni, nonostante la forte variabilità delle quotazioni del grano, che per lungo tempo sono state al di sotto dei costi di produzione. Una dimostrazione che a pesare il prezzo finale del pane per oltre il 90% sono altri fattori, come l'energia, l'affitto degli immobili e il costo del lavoro piuttosto che la materia prima agricola. Una situazione che evidenzia le difficoltà delle aziende costrette a fare i conti con compensi in calo e alle prese con i problemi causati alle produzioni dalla siccità e dagli sbalzi termici. Le superfici seminate potrebbero raddoppiare con la produzione di grano, che deve puntare sull'aggregazione, essere sostenuta da servizi adeguati e tendere ad una sempre più alta qualità. Per ridurre la volatilità e stabilizzare i prezzi, occorre realizzare rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy e garantiscano la sostenibilità della produzione in Italia.